Ha suscitato polemiche in Francia la decisione di Alain Delondi di far sopprimere il suo cane. Se dovesse morire prima di lui. In un'intervista a Paris Match, l'82enne attore francese ha raccontato il suo amore per gli animali e in particolare per l'oubo. Un pastore belga malinois da cui non si separa mai. Poi Delon ha rivelato l'insolita disposizione che ha dato al veterinario. Se dovesse andarsene prima del cane. Dovor fare un'iniezione all'oubo in modo da farlo morire tra le sue braccia. Alain Delon, la presse, faccia d'angelo, come era soprannominato l'attore, vive da solo con l'oubo e un gatto d'aci. In una villa nella foresta della Valle della Loira di cui ha aperto le porte al settimanale. Francese, con i figli Anthony Alain Fabienne e Anoushka che vivono lontani e una depressione latente che lo ha portato anche a meditare il suicidio. La compagnia dei due animali importante per Delon che in vita sua ha avuto ben 50 cani. È ora che sente più vicina alla fine. L'attore ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per farsi seppellire nella cappella della sua tenuta. In cui i giri posano 35 sui cani. E ha pensato anche a l'oubo che considera il suo cane di fine vita e che ama come un bambino. Quello che so che non lo lascer da solo. Ha detto Delon. Se dovesse morire prima di me. Cosa che spero. Non ne prender più altri. Se morire io prima di lui. Chiedere al veterinario di lasciarci andare insieme. Gli fare una iniezione letale in modo che se ne vada tra le mie braccia. Preferisco cos piuttosto che sapere che morirà sulla mia tomba con tanta sofferenza. Immediate le reazioni sui social. Per lo più negative all'idea che l'oubo possa finire i suoi giorni anzitempo per un capriccio del suo padrone. E' talmente megalomane che pensa che il suo cane si lascerebbe morire di tristezza per lui. Stato uno dei commenti. Ma se il suo cane dovesse morire prima di lui. Si può sopprimere Alain Delon. Virgolette. Si chiesto un altro.